I carabinieri della stazione di Maraustica hanno rintracciato e restato a Jesolo Francesco Moroni, 58 anni, di Belluno, destinatario di un mandato di cattura emesso dalla procura di Treviso. Deve scontare sei mesi di reclusione per una truffa compiuta nel 2015 a Pederoba. Aveva infatti raggirato un conoscente di Asolo facendosi comprare due telefoni cellulari per un valore di quasi 2000 euro. Si era poi dato alla macchia, ma da qualche giorno i carabinieri di Maraustica erano sulle sue tracce e l'hanno pizzicato in casa della compagna. Ora è in carcere a Venezia. Grazie a tutti.